ciao a tutti ragazzi io sono mattia de simone benvenuti nella mia cameretta e sono qui per raccontarvi di questo mio ultimo brano tu sei un'emozione non tutti lo saprete ovviamente io ho avuto l'onore di aprire le ultime date dell'ultimo world tour di james brunt qui in italia bene dopo questa grandissima esperienza sono stato in studio ho lavorato su quel brano scritto e è uscita appunto da qualche giorno tu sei un'emozione e questo è un brano a cui tengo molto perché per loro ho dovuto fare un rewind di me dentro di me perché parla di una sera d'estate e di quelle emozioni che io ho provato grazie ad una persona singola in poco tempo e quindi ci tengo davvero tanto e appunto il capo stipite il brano capo stipite del mio primissimo album che uscirà nel corso del tempo e niente vi invito ad ascoltarlo mi invito a seguirmi sui social dove ci saranno sempre sorprese e novità per quanto riguarda tu sei un'emozione e tante altre cose abbiamo anche girato un video ovviamente ci siamo divertiti un sacco a girare il video di tu sei un'emozione perché immaginate ci sono state delle scene in cui siamo tutti andare in spiaggia però era novembre quindi ci siamo davvero divertiti un mondo ancora grazie a tutti quanti potete trovarlo su youtube su tutti i digital store e un saluto ancora ciao